La speranza che ci sia il maggior numero di persone che vadano a votare a queste primarie, è un grande fatto di democrazia, è la prima volta nella nostra città, dobbiamo fare in modo che questa esperienza migliori e si diffonda come metodo nuovo per la selezione della classe dirigente. Queste dunque le aspettative con cui Giuseppe Vetrano si appresta a vivere le primarie in programma domenica ad Avellino e provincia per scegliere i candidati a sindaco di Avellino e a presidente della provincia, primarie che per Vetrano sostanzialmente sono vere. C'è stato un confronto vero tra i candidati, abbiamo fatto anche un confronto sui contenuti, la conferenza stampa di stamattina serve proprio a illustrare questi contenuti nuovi che vogliamo dare. Sulla base di questi contenuti, di queste idee, di questi programmi andiamo al confronto con gli altri alleati, con gli altri candidati sindaci, pensiamo di mettere a fuoco per le prossime elezioni amministrative un programma che sia il meglio per la città. Grazie a tutti!